La storia d'amore tra Bosco e Dine sembrava aver trovato il lieto fine, con il fatidico sì davanti all'altare, ma ben presto i due giovani si sono scontrati con una nuova amara realtà. Una forma rare di diabete, ha provocato la morte della nipote di Candela, inesaspirata tra le braccia del marito, nel luogo dove si erano incontrati la prima volta. Le anticipazioni spagnole del segreto, rivelano che per Bosco inizierà una fase difficile della sua esperienza a Puentevieco. Il figlio di Pepa sarà tormentato dal ricordo di Ines, e dal fatto di non essere riuscito a fare niente per salvarla. Bosco riuscirà a superare il momento difficile grazie ad una nuova figura femminile che avrà conseguenze rilevanti sulla vita del giovane. Nella puntata 1156 entrerà in scena a Berta. La nuova baglia di Beltran riuscirà a stregare il figlio di Pepa, al punto da fargli dimenticare il dolore per la scomparsa di Ines. Il giovane si innamorerà di Berta. Quest'ultima nasconderà importanti particolari del suo passato a Bosco. Anche in questo caso il finale sarà tragico. Non dimenticare di mettere un bel mi piace cliccando sul pollice in su, ed iscriviti al canale per restare sempre in contatto con noi.